Buonasera agli intervenuti. Sono presenti per l'Associazione Italiana Ospedalità Privata il Presidente Nazionale Gabriele Pelissero e il Direttore Generale Filippo Leonardi. Buonasera anche a lei. Per la Fondazione Gimbe il Presidente famoso Nido Cortabellotta. Carta Bellotta. Amico anche. Perché no? Bene. Alcune considerazioni sull'impianto generale del decreto legge, l'analisi sulle singole misure che poi sono dettagliate nella nostra memoria e delle rapide conclusioni. Ecco, la premessa da cui partire è che noi sappiamo oggi dalla letteratura della ricerca sui servizi sanitari che i tempi di attesa aumentano perché c'è squilibrio tra offerta e domanda di prestazione sanitaria. Sappiamo anche che non tutte le prestazioni sanitarie, intendo quelle diagnostiche, le visite specialistiche, soddisfano reali bisogni di salute e di conseguenza una serie di prestazioni risulta essere inappropriata. La letteratura parla dal 10 al 30-35% di prestazioni inappropriate in vari ambiti e la loro esecuzione, primo, non apporta alcun beneficio in termini di salute. A volte, quando si generano i fenomeni di sovradianosi e di sovratrattamento generi per il paziente e ovviamente ingolfa il sistema dell'offerta riducendo ovviamente la capacità da parte di soggetti più fragili e più gravi di erogare tempestivamente quelle che sono le prestazioni. Ecco, su questo punto, per quello che riguarda le misure previste, da una lettura attenta viene fuori che le misure previste dal DL prevedono solo di inseguire la domanda aumentando l'offerta e purtroppo questo come documento di numerosi studi questa strategia è una strategia perdente. Perché cosa verifica in pratica? Esaurito quello che viene chiamato effetto spugna, che di fatto è un effetto a breve termine che permette di assorbire le liste, l'aumento dell'offerta induce per più nel tempo un ulteriore aumento della domanda per una semplicissima legge che risponde ai criteri di domanda offerta. Quindi è fondamentale che vengano integrate azioni sulla domanda, definizione di criteri di appropriatezza, formazione dei professionisti e anche informazione di cittadini e pazienti. Perché spesso viene data, diciamo, tutta la responsabilità al medico prescrittore dimenticando che oggi il cittadino si è un po' involuto in consumatore di servizi e prestazioni sanitarie e finisce per alimentare, diciamo, la quota di domande inappropriata. La seconda grande criticità, a nostro avviso, è rappresentata dai decreti attuativi. Sapete bene che ce ne sono almeno sette e per quattro di loro non sono nemmeno definiti i tempi di pubblicazione. Tenendo conto che si tratta di un decreto che ha sette articoli, un numero così elevato di decreti attuativi, a nostro avviso, lascia numerose perplessità sui tempi di attuazione delle misure. Perché chi fa politica lo sa bene, tra valutazioni tecniche, attriti politici e passaggi tra Camere e Ministeri, dei decreti attuativi spesso si perde traccia e di fatto si finisce ovviamente per non attuare quelle che sono le misure. Noi abbiamo predisposto due tabelle dettagliate che spiegano, diciamo, riportano in maniera schematica tutti quelli che sono decreti attuativi previsti. Vedete che all'articolo 5 ne sono previsti almeno tre e non sono definiti quali sono i tempi di pubblicazione di questi decreti attuativi. Peraltro ci sembra particolarmente lezioso il primo di questi tre, quello che quando la Regione chiede un incremento ulteriore del tetto di spesa per il personale, bisogna fare un decreto attuativo al Ministero della Salute, MEF, potenzialmente per ogni Regione richiedente. Quindi questo ci sembra un sovraccarico amministrativo veramente enorme da quel punto di vista. Il terzo aspetto è quello finanziario. Come sappiamo tutti il decreto è frutto di un prolungato braccio di ferro tra Ministero della Salute e MEF che ha fortemente ridimensionato gli obiettivi iniziali che nelle bozze, come tutti sappiamo, avevano tante altre misure previste e oggi tutte le misure previste sono tutte senza maggiori onere per la finanza pubblica perché o usano risorse già stanziate o sottraggono risorse ad altri capitoli di spesa oppure richiedono di identificare misure compensative, come per quello che riguarda il finanziamento dell'incremento del tetto di spesa del personale. Anche per questo abbiamo predisposto nella nostra memoria uno schema dettagliato che riporta tutti quelli che sono i capitoli di spesa a cui vanno a tingere le singole misure su cui ovviamente non mi soffermo. Alcune considerazioni sulle singole misure. Siamo molto soddisfatti di questa, diciamo, o almeno tentativo di mettere giù una piattaforma nazionale perché permetterà di realizzare un monitoraggio rigoroso e analitico per le varie prestazioni sanitarie in tutte le regioni con le stesse modalità, cosa che oggi non conosciamo tanto che i dati sulle liste d'attesa sono spesso frutto, diciamo, di studi o di autocertificazioni e le regioni ad hoc. Ricordo a tutti che in l'ultima indagine dell'Agenas sette regioni non hanno risposto, sette hanno dato dati parziali e sette hanno dato dati tali. È evidente che la sua implementazione richiederà tempi medio-lunghi perché oggi la eterogenità e la limitata trasparenza di numerosi sistemi informativi rappresenta inevitabilmente un ostacolo e su questo è ovvio che il potenziale impatto sui tempi d'attesa è difficilmente prevedibile. Non ci trova particolarmente favorevoli l'istituzione di questo organismo di verifica e controllo che come sappiamo rafforza le attività di un organismo già esistente, che è il Sivias, che viene integrato con funzione di politica, di polizia amministrativa e giudiziaria che fanno sì che questo organismo abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Le motivazioni sono fondamentalmente tre. La prima è che oggi dalla letteratura noi sappiamo che le strategie ispettive e sanzionatorie quando diventano prevalenti rispetto a quelle premianti aumentano il rischio di effetto boomerang, cioè di fatto non modificano favorevolmente i comportamenti professionali. Il secondo aspetto è di tipo giuridico, non è chiaro come applicare sanzioni e premialità nei confronti del direttore generale degli assessorati regionali delle aziende sanitarie, viste le competenze esclusive delle regioni in materia, oltre che la recente approvazione della legge sull'autonomia differenziata. Infine, un aspetto pratico, il volume delle segnalazioni che potenzialmente sono a carico di tutti i cittadini, enti locali, associazioni di categoria, è ovvio che potenzialmente è enorme e i tempi di chiarimento delle regioni, che sono di 15 giorni, sono molto stretti. Questo ovviamente è un elemento abbastanza critico. Questa operazione costerà circa 2 miliardi e 65 milioni l'anno a carico praticamente del budget del Ministro della Salute. Sull'implementazione del sistema di prenotazione, a nostro avviso è molto rilevante, visto che oggi non è nota la reale disponibilità di prestazione sanitaria tra pubblica e privata accreditato nelle singole regioni, ma tutti sappiamo che in larga parte si tratta di misure già previste da normative vigenti e che non saranno state mai implementate in maniera adeguata. Il problema del potenziamento dell'offerta di visite, che come sapete riguarda l'estensione al sabato e alla domenica e prolungando le fasce orarie, oggi trova il principale ostacolo in quella che è la disponibilità, anzi, la carenza di professionisti sanitari. Una preoccupazione in tal senso è che se i professionisti sono sempre quelli faranno ad aumentare le ore rispettando quelli che sono i turni, la direttiva europea sugli orari di riposo, che spesso rischia di essere violate in queste condizioni. Si ribadisce che questa copertura finanziaria è disponibile solo per l'anno 2024, come disposto dalla legge di bilancio 2024. Sul speramento del tetto di spesa sappiamo che rinviata al 2005, dopo la definizione da parte delle regioni del fabbisogno di personale, tenendo conto della nuova metodologia Agenas, come dicevo sono previste tre decreti adottativi che non hanno una scadenza temporale, almeno è stata salvaguardata la retribuzione accessoria del personale sanitario preservando quelli che sono gli effetti del decreto Calabria. L'ultimo punto, ho saltato il punto 6 che ci riguarda relativamente poco, bene la liquida unica del 15% sulle prestazioni aggiunte sul personale sanitario, sono d'accordo col collega che si potrebbe stendere anche al personale delle strutture private accreditate, però attenzione perché questa defiscalizzazione viene intente scaricata sul fabbisogno sanitario nazionale, cioè sostanzialmente non c'è un finanziamento ad hoc ma viene praticamente diminuita quella che è la quota destinata alle leggi di bilancio del 2024, quelli che sono i progetti di carattere prioritario e di rilevo nazionale. Chiudo con due considerazioni di carattere generale. È ovvio che le liste d'attesa, così come l'affollamento dei pronto soccorsi, la carenza dei medici di famiglia, sono il sintomo di un indebolamento organizzativo e soprattutto professionale del servizio sanitario nazionale che tutti sappiamo richiede da un lato consistenti investimenti ma dall'altro anche coraggiose riforme. È la mia impressione che ricondurre tutti i problemi anche da un punto di vista della comunicazione pubblica alle liste d'attesa è un po' semplicistica perché rischiamo di ridurre il valore del servizio sanitario nazionale a quella che io chiamo visione prestazionistica, dove l'importante è esigere per il cittadino erogare per l'erogatore pubblico privato una prestazione in tempi brevi indipendentemente da chi sia l'erogatore. Quello che in realtà noi invece oggi abbiamo perso è la capacità del servizio sanitario nazionale di prendere in carico il paziente, in particolare il cronico, in maniera ulteriormente particolare l'oncologico e questi pazienti oggi sono costretti a peregrinare tra cupi diversi, tra ospedali e addirittura regioni diverse nel tentativo anche di prenotare una visita o un esame diagnostico, quello che seguendo i percorsi dovrebbe fare il servizio sanitario nazionale. Ecco perché a nostro avviso la cosa più importante è l'investimento sul personale sanitario, l'aumento degli organici senza stremare ulteriormente quelli già in servizio che rischiano di alimentare la fuga dei professionisti del servizio sanitario nazionale. Concludendo, la versione definitiva del DL è ovvio che ha risentito dell'impossibilità di investire ulteriori risorse in sanità in questo momento storico. Sicuramente il decreto pone le basi per conoscerle meglio il fenomeno e prevede l'implementazione di varie misure ma ribadisco richiede una strettissima collaborazione di regioni e aziende sanitarie. Risulta un po' perentorio nei tempi e sovrabbondante nella forma in particolare sui decreti attuativi ma dovrebbe essere arricchito di contenuti in particolare quelli per il governo della domanda che ovviamente contribuiscono a generare problemi nella lista d'attesa. Anche perché come ci siamo già detti per superare il tetto di spesa per il personale sanitario ci vogliono risorse da investire e in questo decreto al momento sono pari a zero e professionisti da assumere che purtroppo cominciano a diventare sempre meno. Grazie. Bene, domande colleghi che siano domande per favore. Bene, domande colleghi che siano domande per favore. Prego, salta. Microfono. Nino, mi scusa, microfono. Sì, scusa. Quindi chiediamo un chiarimento aiuti e ringrazio ancora per quanto riguarda, si è parlato di discriminazione per il personale sanitario per quello che riguarda la defiscalizzazione personale in servizio nelle strutture pubbliche e personale in servizio nelle strutture private però il personale in strutture pubbliche è legato da un vincolo di esclusività quindi o stanno intramenie o stanno extramenie, ovviamente il privato non ha questo vincolo quindi non capisco dove sta la discriminazione forse la vedo al contrario sinceramente quindi un chiarimento su questo aspetto lo chiedo. Io porrei solo l'accento in termini abbastanza preoccupati sui decreti attuativi perché anche io ho letto effettivamente l'assenza di una data di solito nei provvedimenti, qui amo, delle date che possano in qualche modo a meno cercare di... quindi io chiedo a tutta la maggioranza e alle opposizioni di presentare menti per favorire diciamo la datazione e quindi un cronoprogramma della presentazione dei decreti attuativi e chiedo se questo può essere condiviso dai nostri auditi. Altre domande? Sì rispondo per quanto diciamo di mia competenza. Allora sul discorso dei decreti attuativi l'avvisto ovviamente sì perché i decreti attuativi richiederebbero diciamo una definizione di scadenza di pubblicazione aggiungo quanto già rilevato prima l'ipotesi che ci debba essere un decreto attuativo parlo del superamento del tetto di spesa a fronte della richiesta di ciascuna regione di incontrare ad un ulteriore 5% il tetto ce lo trovo una complicazione non piccola perché potenzialmente noi potremmo avere 21 decreti attuativi è chiaro che per quello basterebbe dire dopo 60 giorni dalla data di richiesta della regione per gli altri definire quindi questo darebbe diciamo dei tempi più certi. Rispetto a quella che la domanda che cosa si può fare di urgente è evidente che di urgente si può fare relativamente poco anche perché la maggior parte delle disposizioni previste dal decreto diciamo sono azioni comuni di medio e lungo periodo voglio dire quello che manca secondo me dal punto di vista della programmazione è agganciare meglio gli strumenti di progressione e finanziamento a quelli di premialità cosa intendo o in primis gli obblighi praticamente informativi sull'appropriatezza che le regioni dovevano trasmettere attraverso gli obblighi informativi dei livelli senza assistenza il capitolo appropriatezza praticamente risulta in spunto da circa 6-7 anni quindi primo bisognerebbe ripristinarlo cioè perché mettiamo dentro il sistema di governance con quella che è un'esigenza richiesta dalla gestione della lista d'attesa la seconda è che noi oggi con il nuovo sistema di garantia con 78 indicatori che monitorano gli adempimenti LEA delle regioni abbiamo una grossissima opportunità per creare un sistema premiale a cascata che va dalla regione al direttore generale al dipartimento unità operativa fino al singolo professionista però abbiamo un solo indicatore che riguarda la lista d'attesa quindi l'espansione diciamo di un numero maggiore di indicatori che vanno a vedere non soltanto i tempi di attesa ma anche la percentuale di prestazioni appropriate su questo bisognerà lavorarci anche nel medio periodo può dare dei grandi risultati perché ribadisco nessun paese ha mai inventato una ricetta monofattoriale per risolvere il problema delle liste d'attesa ci vogliono aspetti tecnologici, ci vogliono aspetti normativi, disposizioni ci vogliono premialità, ci vogliono sanzioni è quella che si chiama strategia multifatteriale per cambiare comportamenti da un lato organizzativo e dall'altro professionale ma anche in questo caso specifico comportamenti dei pazienti ecco un'altra cosa diciamo sicuramente che funziona è la penalità per il paziente che non si presenta per la visita è la capacità dell'organizzazione di occupare quegli slot che si sono liberati perché è esperienza di tutti oltre che narrativa e dati che ci dicono che a volte ci sono giornate in cui metà del tempo disponibile non dico che i medici si girano i pollici ma che metà delle visite prenotate sono saltate magari poi le recuperano con pazienti interni cioè bisogna agire sia dall'alto sia dal basso ma su questa creazione di un sistema premiale a cascata io lo vedo molto più funzionale e più funzionante diciamo di un meccanismo prevalentemente sanzionatorio la cui applicabilità mi lascia perplesso rispetto a quelle che sono le autonomie regionali in termini di organizzazione e gestione dei servizi sanitari bene ci sono altre repliche credo che grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti